tutti da miss bimbi eccomi con una nuova ricetta questa volta ho voluto provare la crostata di pasta frolla montata e devo dire è molto semplice da fare è a base di burro quindi per chi sta a dieta non è proprio l'ideale però una volta ogni tanto si può fare è quella crostata dove nelle vetrine le vediamo lavorate con la sac a poche quindi non si può lavorare con le mani o può essere adatta la frolla montata per la spara biscotti o altrimenti appunto nella sac a poche dove ci si possono fare anche i biscotti io invece ci ho fatto una bella crostata alla marmellata di ciliegie devo dire veramente buona e i passaggi sono pochissimi vi lascerò tutti i dettagli e gli ingredienti nel video vi farò vedere passo passo come ho fatto e vedrete che è davvero semplicissima da fare ci vogliono tipo 45 minuti si monta prima il burro poi lo zucchero dopo ci si mette l'uovo la farina la vanillina stop e il gioco è fatto si mette tutto nella sac a poche e si lavora a vostro piacimento quindi vi lascio la ricetta e vi faccio vedere il procedimento passo passo come l'ho realizzata spero vi piaccia pollicino in su se vi piace e mi raccomando vi ricordo che se volete sempre essere aggiornati iscrivetevi al mio canale cliccando la campanella così sarete avvertite quando posterò delle nuove ricette intanto io vi lascio con la crostata faccio una buona colazione e ci vediamo alla prossima ricetta miss bimbi mettiamo nel boccale 125 grammi di zucchero e frulliamo per 20 secondi alla velocità 10 aggiorniamo ancora due minuti alla velocità 3 terminata la forma dobbiamo assolutamente metterla in frigorifero o in frizze mi raccomando questo passaggio è importantissimo altrimenti in forno rischieremo di perdere assolutamente tutta la forma quindi una volta ben indurita inforniamo la forno prediscaldato 180 gradi statico per circa 20 si mi noji qui qui qui